Fratelli e sorelle nero azzurri, buon pomeriggio a tutti. Oggi voglio fare il video perché mi girano talmente tanto le palle che mi stanno facendo così... Mi girano le palle per quale motivo? Nel momento in cui sono stati fatti i cambi, io ho detto qua siamo. La partita la pareggia. Mi sembra chiaro e palese che Mr. Conte stavolta abbia delle responsabilità pazzesche su questa partita. Mi dispiace dirlo perché le partite si vincono e si perdono insieme, per carità di Dio. L'ho sempre ribadito il concetto, ma stavolta ragazzi miei, stavolta ragazzi miei, se mi fai uscire Lautaro e Hakimi per Perisic e chi cazzo è entrato più, che non va neanche... Ah, è Kolarov, e allora lì, e allora lì, tu indietreggi e quindi non vai a osare per andare a cercare di chiudere la partita definitivamente, no. E allora te la prendi in quel posto lì, te la prendi, perché è normale che sia così, no, è normale che sia così. Quindi mi dovevo sfogare e faccio il video, niente posto oggi. Dico io una cosa però, no, dico pensi alla Juventus, stai pensando alla Juve, che parliamoci chiaro, stai pensando alla Juve, tu stai pensando alla partita con la Juve. Se non la vinci ti vengono a rompere il culo fino a casa. E basta ora. Se partite ti vincono. Non si devono pareggiare all'ottantaseiesimo. Per due cambi sbagliatissimi, perché tu non si deve pensare alla partita successiva, si deve pensare alla partita che sarà, si deve pensare a quella partita lì, si deve pensare a quella partita lì del cazzo che stai giocando. Non devi pensare al dopo, non ci devi pensare al dopo. Due cambi, che vero e... Madonna mia, io a Perisic non lo farei entrare neanche se fossi rimasta in dieci uomini a Perisic non lo farei entrare, neanche in dieci uomini lo farei entrare a Perisic io. Ma come, come, come... No, veramente io... A me la c'erosepata. Allora, partiamo dal presupposto che se... Mi avessero detto un pareggio a Roma, ci avrei messo la firma. È una signora squadra e se dobbiamo parlare a livello tecnico è veramente una bellissima squadra. Gioca la palla, fa fraseggio... Non le si può dire niente. Ma ragazzi, nel secondo tempo penso che... Penso che l'Inter abbia strameritato di passare in vantaggio. Se poi mi fai i cambi, mi fai entrare Perisic al posto di Lautaro che per carità, se era infortunato, mister, io lo capisco a me mi fa incazzare, vedi, sono... Perché poi ritorno sui miei passi perché io ho tanta stima di te ma i campionati si vincono senza cacarsi sotto. Se ti cachi sotto i campionati non li vai a vincere. E tu oggi ti sei cagato sotto. Perché è palese. Per carità, Lautaro ha preso la botta e mi fai uscire Lautaro. Ci può stare. Ma non mi fai entrare, uscire Hakimi che ha fatto una partitona. Non mi fai entrare Kolarov al posto di Hakimi e Perisic al posto di Lautaro. Perché significa che la partita, che lì ti stai indietreggiando. E che lì fai vedere anche all'avversario che può osare. Mi girano le palle a pareggiare una partita all'86. Mi girano i coglioni, porca puttana. Lo devo fare per forza sto video, ragazzi. Scusate se le brutte parole, perdonate gli sfoghi, ma porca di una troia puttana. E' così, è così, è così. Io rimango dell'idea che certe cose, purtroppo, che certe partite si vincono osando e senza pensare alla prossima partita. Sicuramente per te la partita prossima è una partita fondamentale, di fondamentale importanza. Ma come lo è per noi, per carità di Dio. Ma se non la vinci vengo fino a Milano e ti vengo a rompere il culo. Te lo dico proprio, eh. Cioè, te lo dico proprio. Perché se tu mi fai questi cambi all'85 per pensare alla partita prossima, che per carità ci sta tutta, perché quello ha preso una botta, quello fisicamente non sta benissimo e ci sta. Ma Sanchez si è fatto male di nuovo, è morto, è sepolto. Che cosa gli è successo di nuovo? È sciuncato di nuovo? Che cosa gli è successo a Sanchez che mi fa entrare a quel bastardo croato? Perché? Perché io lo odio, non lo posso vedere. Sportivamente parlando, ovviamente. Io non lo sopporto. Perisic se ne deve andare in culonia. Non deve stare nell'Inter. Non deve stare nell'Inter. Porca di una puttana. Vabbè, ho detto questo, vada. Vi saluto perché veramente oggi non è cosa. E almeno mi sono sfogata. Quanto meno mi sono sfogata. Ma vi ribadisco. Oh, non perdiamo il controllo nel senso che uno sfogo ci sta. È per carità di Dio. Ma attenzione, che è un pareggio a Roma, io ci avrei messo la firma per un pareggio a Roma. È una signora squadra e le faccio i complimenti perché ha giocato veramente nel primo tempo bene e meritato di essere in vantaggio. Quindi, ragazzi, pareggio che ci sta perché lo potevamo mettere in conto a Roma, ma la prossima partita la devi vincere. Punto. Cioè, non esiste. Per carità, andiamo ad affrontare una squadra forte, altrettanto forte. Ma se mi preservi per poi, eh? Eh, 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 eh. Abbiamo capito, sì? Ok, perfetto. Fratelli e sorelle razzurre. Io sono sempre più imbestialita che mai, nonostante gli acciacchi a volte. Io vi saluto, vi abbraccio. Mi sono sfocata con voi, ne avevo proprio la necessità perché veramente sto implodendo. Quindi, bene così. Ricordatevi sempre, ovunque voi siate, che la vostra luce vi vuole bene. E sempre, sempre, sempre. Forza Inter e forza tutto quello che è il contorno. Mister, giocatori, società e tutti. Pensiamo ad andare avanti tutti insieme. Gli sfoghi, le critiche ci stanno, ma devono essere sempre costruttive. E quando ti girano i coglioni, va bene che tu puoi anche dirlo, ma in maniera costruttiva, senza fare scatafasci di quelli, fare scatafasci di quelli esagerati. Chiaro? Le partite che vuoi vincere all'ottantesimo, non le devi pareggiare con quei cambi di merda che ti permetti di fare. Fratelli e sorelle e nero azzurri. Vi mando un bacio. Ciao, ciao a tutti.